buongiorno 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 ben ritrovata questa video analisi dedicata ai principali titoli azionari anche quelli più richiesti su investing si riprende quindi questa ultima settimana ultime giornate fino a mercoledì praticamente di questo pazzo incredibile 2020 che penso non ce lo dimenticheremo mai però nel 2020 è nato un grandissimo progetto unico in italia la trading zone viene nel mio sito sopra sulla scritta vedi che scorre sopra di me ci è una descrizione limitata perché davvero tante tante cose qui già state vedendo alcune parti come i grafici soprattutto in tempo reale le dirette sky tg24 ma c'è anche se in bc italia così come anche i canali internazionali il mio diario di trading e qui c'è anche ogni sera faccio un video con l'analisi su tutti e 40 titoli quindi del paniere fuzzi mib ma ci sono tante da vieni vieni è gratis e se sei tra gli utenti più attivi hai diritto anche ad avere dei buoni amazon 25 euro tutti i giorni ai primi 5 quelli che scrivono di più che pubblicano più analisi che commentano di più quindi dai dai ti aspetto progetto unico in italia e vediamo e chi ha seguito la mia video analisi era l'ultima della settimana scorsa per oggi c'erano inversioni a rialzo praticamente su tutti i titoli azionari andiamo a vedere andiamo a vedere andiamo a vedere andiamo a vedere subito 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 partiamo da eni in questo momento più 0 38 per cento venerdì scorso ha confermato questa candela verde chi nasce su un livello 8.255 si chiude quindi questo trend di sei punti percentuali al ribasso 6 e mezzo per la precisione dopo la candela rossa del 14 dicembre e si riprende il discorso rialzista con primo target proprio in 9 euro area 9 euro da dove c'era stata assolta questa flessione poi intesa san paolo più 1 e 55 candela verde anche per intesa san paolo venerdì scorso il livello 187 46 obiettivo primo obiettivo 199 e 70 e poi chissà altre altri lidi più ambiti cime anzi parli dei montagne più in alto sopra i 2 euro e c'è la candela verde c'è la candela verde andiamo a mettere primo piano primo piano per il grafico di unicredit che ha confermato la candela verde sul livello 746 che già qui vedete è stata una ex resistenza e qui ce n'è di spazio per salire vediamo prima ovviamente quelle che sono le soglie psicologiche 8 euro 9 euro e chissà la resistenza l'ultima tracciata 9.267 e anche fiat dopo questa breve parentesi della candela rossa 21 dicembre torna al rialzo oggi più 1.58 vediamo se si è fermata siamo pochissimo anche adesso sui massimi giornata vicine 15 euro più in alto l'aspettano dei livelli interessanti ma a questo punto il semaforo è verde chi nasce a favore di chi al rialzo e al rialzo torna pure telecom italia che chiude un trend di oltre 8 punti percentuali al ribasso candela verde e da oggi al rialzo e anche in questo caso il primo target è la resistenza da dove c'era stata questa correzione praticamente nelle settimane scorse dai ti aspetto ti aspetto nella trading zone buona giornata a tutti arrivederci